Il colubio tra Genova e Costa è indissolubile, il colubio dura da 70 anni e che durerà almeno tra le altre 70. Oggi siamo qui per presentare una mostra che regaleremo alla città di Genova, in particolare a Palazzo Lucale e poi quando sarà finita i suoi archivi, che vuole proprio celebrare i 70 anni di Costa che alla fine siamo stati sostanzialmente 70 anni in cui abbiamo cercato di regalare felicità a tutti i nostri ospiti. Proprio per questo abbiamo chiesto a Oliviero Toscani, i più grandi maestri della fotografia italiana, di catturare questi momenti di felicità che ci sono sulle nostre navi durante le nostre crociere e da qui è nata questa mostra che presenteremo oggi, che si intitola appunto Oliviero Toscani, ladro di felicità al quadrato.